Vi spiego perché la legge elettorale in discussione alla Camera è una legge truffa per il Trentino Alto Adige. Allora, la legge elettorale a livello nazionale prevede il 5% di sbarramento proporzionale per tutte le regioni d'Italia, tranne per il Trentino. In Trentino, per garantire il diritto di tribuna in Parlamento alle minoranze tedesche previste in Costituzione, si fa una legge elettorale totalmente diversa in Trentino e in Val d'Aosta rispetto al resto d'Italia. Perché? Perché noi qui saremo considerati come minoranza tedesca, ma questo vale solo per una parte dell'Alto Adige. In Trentino parliamo tutti italiani. In più, c'è anche da dire che nel resto d'Italia la legge prevede il voto 60-60% uomini e 40% donne. Da noi no, perché i parlamentari del Pate e dell'SVP sono tutti uomini. Ma al di là di questo, grazie a questa legge che non vale per il Trentino, con 140.000 voti, 140.000 voti, tutto il Trentino Alto Adige, verrebbero eletti 15 parlamentari su 18 dell'SVP e PD. In questo modo, nel 2006 e nel 2013, il PD ha vinto le elezioni nazionali contro il centrodestra, che aveva più voti. Ma per garantire la minoranza tedesca, la scusa della minoranza tedesca, gli è stato regalato tutto il Trentino Alto Adige al PD. Questa è una legge truffa, è una legge che non rappresenta tutta l'Italia. Ci sono partiti che col 5% di sbaramenti rescano esclusi dal Parlamento con un milione e mezzo di voti. E invece in Trentino Alto Adige la minoranza tedesca, con 140.000 voti, con questa legge truffa del PD, avrebbe 15 parlamentari e condizionerebbe le prossime elezioni politiche. Voi capite che è un'ingiustizia ed è sbagliato che in Trentino anche i titoli dei giornaloni di Trentino dicono attacco all'autonomia. Non è un attacco all'autonomia, perché l'autonomia è di tutti. È un attacco alle loro poltrone dell'autonomia, alle poltrone del PAT, del PD e della SVP. Noi siamo italiani, parliamo italiano in Trentino e vogliamo votare come nel resto d'Italia.